Buongiorno, quinto incontro con il dottor Vittorio Lodo Lodoria che continua i suoi commenti da esperto su storie di disagio professionale dei docenti. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, allora oggi riprendiamo con un ennesimo caso, sempre una donna che ci scrive, non so bene quando tutto sia cominciato, ma so di certo cosa sto provando adesso. Non mi sento all'altezza di tornare in classe, l'idea mi spaventa a tal punto che tutto mi si confonde. Sono entrato in ruolo come insegnante alimentare a 22 anni, nel 1983. La mia esperienza di insegnamento era zero, ma avevo un'innata capacità di comunicare e semplificare concetti e informazioni e una vera passione per i bambini. Oltre a ciò ero dotato di una curiosità straordinaria che mi induceva a sperimentare. Spesso mi inoltravo in ambiti in cui poco sapevo senza terresentirmi però mai impreparato. In 28 anni di ruolo, quindi un'anzianità di servizio decisamente importante, non ho mai perso questa propensione, pur essendo entrata in crisi col mio lavoro parecchie volte, ho sempre trovato qualche motivazione per andare avanti. Ora no. Dopo aver insegnato per 15 anni nella stessa scuola me ne sono andata. Sono rimasta però nello stesso circolo e per me è veramente stato un circolo vizioso. Credo di aver subito un mobbing moderato per tutti gli anni che ho passato lì. Come insegnante mi ha sempre appassionato il linguaggio audiovisivo. Mi fermo un attimo per parlare un attimo del mobbing. In realtà nella nostra esperienza di collegio medico abbiamo visto che spesso la denuncia di mobbing è avvenuta in modo decisamente improprio. Chi denunciava il mobbing denunciava, in realtà manifestava un delirio persecutorio. Ora vediamo come in questo caso c'è un delirio inizialmente, proprio all'inizio questo delirio persecutorio, non andrà oltre, ma spesso prende proprio la china del mobbing o del presunto mobbing e delle denunce che nessuno è mai riuscito a dimostrare in questo caso. Mai un incarico, dice l'insegnante, una menzione, una patta sulla spalla, un riconoscimento. Ho sempre mandato giù questo essere invisibile invisibile perché sapevo di essere anche tanto rompiscatole nei collegi e nei consigli di circolo. Tanto in classe avevo le mie soddisfazioni, bambini motivati, genitori contenti, che mi hanno sempre dato la forza di superare le frustrazioni, datemi, da alcuni colleghi mediocri e da un dirigente poco sensibile. Ancora una volta vediamo che il nemico è lì all'interno, proprio lì dove noi dovremmo fare condivisione, dove lo stress da lavoro correlato, maturato all'interno della scuola, dovrebbe vedere come alleato il mio dirigente e i miei colleghi. Invece tutti e due sembrano essere dei miei nemici. Uno perché non mi gratifica, non mi dice brava, non mi dà la pacca sulla spalla, gli altri perché competono con me. Ho chiuso tre anni fa con due quinte di 40 ragazzi che mi adoravano, colleghe con le quali si litigava ma si aveva la stessa marcia, ora sono in pensione, con un'esperienza di città di tre giorni in montagna che ricorderò finché campo. Anche i genitori mi hanno voluto un gran bene, ero al massimo delle mie capacità di insegnante, equilibrata, attenta, motivante, allegra, appassionata, ovviamente tutto detto dall'insegnante. Noi non sappiamo quanto questo sia vero, ma probabilmente nel vissuto e nell'autostima di questa persona tutte queste caratteristiche erano piene. Dove è ora quella donna? Si chiede l'insegnante. Gli ultimi tre anni di scuola mi hanno distrutto, genitori ignoranti e assenti, bambini schiacciati dal giudizio negativo costante sul mio perato, mai espresso apertamente ma con voci striscianti. Ecco ancora una volta il derivio persecutorio che sembra apparire e farsi più insistente. Non si capisce che cosa sia successo dal prima al dopo, cioè c'è stata una rottura improvvisa, quindi probabilmente un equilibrio che si è rotto all'interno dell'insegnante. Ancora qualcuno è arrivato ad insinuare che picchio i bambini e sono isterica, colleghi sempre più distanti e morfi, colleghi amiche sparite poco alla volta dalla vita a scuola e fuori. Non mi sono mai sentita così sola. E poi mi scrive punto e un pensiero di due parole sole, in menopausa. Ancora una volta eccoci che inizia a essere un elemento che si fa fatica a riconoscere. Io riconosco sempre che nei miei corsi ci sono tanti insegnanti che mi dicono, ah lei parla di menopausa, è un maschilista, ci parli dell'andropausa. Ma a parte le battute, io dico sempre che la questione della menopausa è veramente problematica perché aumenta di cinque volte quella che è l'esposizione al rischio depressivo della donna. La soggettività della donna, la donna è soggetta alla depressione due volte e mezzo rispetto all'uomo e questo solo ed unicamente per causa ormonale e dunque noi avremo degli sbalzi dell'umore, in particolare in senso depressivo della donna, dove nella fase del ciclo, nella fase del postpartum e nella fase menopausale, perimenopausale. E ricordiamo che le nostre insegnanti hanno l'età media di 51 anni e ci sono in piedi. Posso interromperla dottore? Volevo sapere, ma come si fa a distinguere il vero mobbing dal delirio persecutorio? È bellissima domanda e la ringrazio perché altrimenti poi gli insegnanti iniziano a pensare che tutto sia delirio persecutorio e non mobbing. Allora, qua noi possiamo dire, intanto c'è un corredo sintomatologico, in commissione abbiamo questo metro in collegio medico e cioè quando arriva la persona e la persona di fronte a noi ci dice, io sono perseguitata, sono stata mandata qui in commissione non per mio volere ma perché mi ha mandato il dirigente scolastico. Allora noi facciamo le domande di diritto, va bene, ci dica come va con i suoi colleghi e la risposta è, ah, con i miei colleghi, maledetti, mi hanno fregato il sabato come giorno libero. Allora gli chiedono come va con i ragazzi, maleducati, non sanno nemmeno come comportarsi. Allora gli chiediamo come va con i genitori, i genitori, ma molto semplice la risposta perché dai frutti si vede l'albero. E dunque andiamo alla domanda finale, ma come va con il suo marito? E la risposta è, è con mio marito? Maledetto, mi fa le corna. E allora c'è tutto il mondo che non va. Allora in questo caso è chiaro che abbiamo un disturbo tipicamente psicotico che non permette alla persona, però la persona è convinta di avere ragione. Ecco che dice sono gli altri, tutto l'universo mondo che è cambiato, sono io che ho ragione e non giustifica un proprio cambiamento ma dice è tutto il mondo che non va e ce l'ha con me. E dunque questo sicuramente, quindi non solamente il delirio persecutorio, ma ci deve essere anche ovviamente un corretto sintomatologico che deve essere ben più ampio. Quindi invece il mobbing ha una forma diversa? Sì, allora il mobbing è intanto documentabile, circostanziato, che ovviamente deve essere, la persona deve essere disposta a confrontarsi almeno con una persona a lei vicino e ascoltare. perché quando il mobbing è visto e vissuto solo ed unicamente dalla persona e non è confortato da chi ti sta accanto e ti dice sì effettivamente è così, beh allora qualche sospetto lo induce. Chiudo questo caso dicendo solamente che dice colleghe nuove che mi hanno mitizzato e che si aspettano da me, meraviglie, io mi sento come morta, sono in malattia per 15 giorni, non faccio che piangere, aver mal di stomaco, insonni, ansia, confusione mentale. A volte mi viene in mente di fare cose grandiose, a volte mi trovo a non capire neanche più come si fa una semplice programmazione. Come faccio a tornare in classe? E qua il corretto sintomatologico è molto chiaro, però c'è da dire che anche in questo caso l'insegnante ha dissimulato molto perché vuole apparire sempre bella, sempre forte, sempre in grado di fare tutto, di farlo bene e ha delle idee grandiose. E dunque questa dissimulazione ti porta ovviamente all'impossibilità a condividere il tuo disagio perché tu fingi di stare bene ma gli altri non se ne accorgono, si incista il disagio dentro di te fino a che poi il tuo corpo non si limita solamente a dare segnali di somatizzazione ma ti abbandona del tutto. Lei ci ha parlato di casi sempre di donne in questi incontri, ma gli uomini insegnanti non sono soggetti a questi disagi? Certo, guardi, la smentisco subito perché c'è un caso brevissimo di un insegnante, anzi diciamo i casi di psicosi coinvolgono quasi di più gli uomini delle donne, quindi casi più gravi. Qua ne abbiamo uno, è fra l'altro un collega insegnante che da pochi anni segnala un caso al preside e senta cosa scrive. Nei miei non molti anni di insegnamento ho già visto come sia delicata la nostra figura, sempre più soffocata da incombenze burocratiche e schiacciata tra ragazzi sempre più difficili e prepotenti, genitori invasivi e dirigenti spesso incapaci, menefrevisti o con deliri di autoritarismo. Quando ancora non avevo i suoi contatti, si rivolge a me chiaramente, mi sono trovato in una situazione di tipico disagio di un collega, quindi un collega maschio, vestito in maniera poco decorosa e spesso malodorante, con seri problemi nella gestione delle attività didattiche, tendeva ad addormentarsi sulla cattedra. Tutti ne erano a conoscenza, compresi colleghi, ma solo sottoscritto, stimolato dai ragazzi relativi genitori, seguendo alcune indicazioni, ho provato per iscritto a invitare il preside a valutare la possibilità di procedere a un accertamento medico d'ufficio e quindi a visita collegiale. Ovviamente non è successo niente, causa manifesto disinteresse e incapacità del dirigente, tra l'altro anche lui con seri problemi di alcolismo. E qui mi chiedo che potere abbiamo noi docenti in questi casi quando è il dirigente che ha seri problemi e questo lo affronteremo un'altra volta perché mi chiede un tempo speciale. Come facilmente potrei intuire la situazione che persisteva da tre anni, io mi sono trovato lì solo nell'ultimo anno, è degenerata con il docente che ha schiaffeggiato un'allieva con ovviamente tutte le montature del caso, situazione che va sulla stampa locale, carabinieri a scuola, il dirigente che pensa salvare solo i suoi interessi con sospensione del docente, successivo licenziamento del docente anche a causa di una sua scarsa collaborazione ad una soluzione pacifica del caso. Ecco quindi come vede, perché io parlo soprattutto di donne? Perché le donne sono l'82% del corpo docente, sono ovviamente più a rischio dell'uomo perché abbiamo detto prima, sia hanno il ciclo fertile e quindi per questione ormonale siano più esposte alla patologia depressiva, ricordiamo che la patologia depressiva è quella che noi abbiamo notato nel 90% dei casi nel corpo docente, mentre il 10% solamente psicotica. Quindi tutti dobbiamo stare ovviamente attenti a questa cosa e ricordiamo il dato principe, nella medicina del lavoro il risultato più importante è stato questo, che docenti uomini e docenti donne hanno manifestato e presentato lo stesso rischio di patologia depressiva. Cosa significa questo? Non significa che agli uomini sono spuntati le ovaie e alle donne le gona di maschili, ma significa che la usura psicofisica della professione è così impotente da schiacciare le pur cospicue differenze fra i generi. Bene, grazie di nuovo e un saluto da Gilda TV.